ciao a tutti amici di calciomercato.com si è appena concluso un weekend di fuoco ci sono stati due tornei online più la weekend league i due tornei online praticamente ti qualificavano alla eswc di parigi in cui ci sono 50 mila dollari di montepremi e ha visto trionfare nella seconda giornata giovi 69 mio compagno di team purtroppo per me ho perso nella prima coppa nel primo giorno in finale dall'altra parte weekend league abbiamo concluso tutti con ottimi risultati e finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a portarmi uno al mondo in settimana non c'ero mai riuscito ero sempre arrivato secondo terzo ma per fortuna questa settimana avendo avuto un punteggio abilità alto mi sono portato uno al mondo e questo è importante per ricevere tantissimi premi e tantissimi crediti in più questo fatto della riduzione delle partite ci ha sicuramente aiutato perché fare sabato e domenica un torneo e giocare contemporaneamente la weekend league è difficilissimo ma per fortuna abbiamo gestito bene le partite siamo riusciti a terminare entrambe le cose detto questo ragazzi faccio un in bocca al lupo a giovi spero che faccia benissimo a parigi e ci vediamo al prossimo video su tutti dai sprincipe ciao ciao Grazie a tutti.